Sempre più spesso si parla ai giovani di legalità, c'è questa necessità di diffondere la cultura alla legalità. Lei da chi prende esempio? Il mio esempio da Palermo lo prendo da padre Pino Puglisi, beato oggi nella Chiesa Cattolica, un sacerdote che ha saputo mettere insieme teoria e prassi. Tante volte si parla di legalità ma che rimane soltanto un discorso teorico astratto. padre Puglisi invece ha incarnato la legalità nella sua vita promuovendo in un quartiere a rischio come Brancaccio l'amore per la vita, l'impegno nel sociale, il rispetto delle leggi. Questo fatto sì che ha dato fastidio alla mafia e quindi lo hanno eliminato. I messaggi che lei porta ai giovani vengono recepiti e in che modo? Sì, i messaggi di giovani sono molto in gamba e quindi recepiscono i messaggi se però sono accompagnati da una testimonianza. Quindi non soltanto il messaggio fino a se stesso ma la testimonianza della mia vita nell'impegno della lotta alla mafia a Palermo. Ormai è da tempo che si parla di lotta alla mafia ma si riesce a contrastarlo o ancora ci sono difficoltà? Purtroppo devo dirvi che stiamo facendo un passo indietro nel senso che l'attenzione alla lotta alla mafia è abbastanza purtroppo seguita soltanto dai magistrati o dalle forze dell'ordine proprio perché si è fatto un grande errore quello appunto di parlare di legalità senza poi entrare nella prassi ogni giorno nella vita della politica, nella burocrazia nell'affrontare le problematiche esistenziali e anche lavorative. Quanto è importante il ruolo delle istituzioni? È necessario, senza di loro noi non possiamo fare nulla.